come ti senti cioè sei emozionato eh voglio diciamo che adesso adesso più che emozionato sono spaventato allo stesso tempo e lui fa cacare vediamo come va, vediamo a te, salutiamo mamma, ciao mamma, ciao impressioni a caldo, allora com'è? allora di assetto, no lascia perdere l'assetto, tu mi devi dire che cosa hai provato accanto a un pilota, vedi lui è Stig perché ha la visiera abbassata, non si capisce una figata, una figata assurda, parla forte, una figata assurda, ogni curva sembra di arrivare lungo invece i freni rispondono bene, ti attacca alle cinture, la forza G che ti butta di qua, di là il motore come lo trovi? bello, sembra pronto fai due sgasate, farlo sentire, vai Stig, due sgasate ok, ora tocca a te però eh bella tocca ai Grazie per la visione!